A Fiano Romano, Lazio e Manfredonia si affrontano nell'andata del primo turno dei playoff di Serie 2 Elite, la prima occasione della partita è per i pugliesi, Ronaldo cerca Murgo sul secondo paolo, il numero 7 però non riesce a metterla in porta. Dall'altra parte, Gielmi non trattiene, Medici si va a riprendere il pallone calcio e trova l'opposizione dell'ex Feldieboli, bravissimo poi anche sulla conclusione di Pezzin. Il vantaggio del Manfredonia arriva nella seconda parte di primo tempo, Zullo servito proprio dagli elmi, va da Ronaldo, palla di ritorno e sinistro che si insacca sul primo palo. Manfredonia trova poi anche il raddoppio prima della fine del primo tempo, Gielvé recupera il pallone sulla propria tre quarti e scaraventa l'incrocio, un sinistro imprendibile per il portiere avversario. Manfredonia cerca poi l'allungo e lo trova a inizio secondo tempo, ancora Ronaldo in vesti di assistman, scambio con Tagliercio, numero 5, con il piattone in sacca. Il tris della formazione guidata da David Ceppi che poi allunga ulteriormente Ronaldo dopo due assist. si mette in proprio con il sinistro, trova sul primo palo la traiettoria giusta per fare 4-0. La Lazio ci prova allora con il portiere di movimento, Barbieri però è bravo a recuperare il pallone nella propria tre quarti e a depositare in rete il quinto gol di giornata. Arriva anche il terzo assist della partita di Ronaldo Cabarcas, l'aveva aperta Zullo, la chiude sempre Zullo. La partita va verso i titoli di coda con il punteggio di 0-6, ci sono ancora un paio di occasioni da entrambe le parti, ma al quarantesimo minuto il punteggio dice vittoria. Manfredonia una serie ipoteca per la qualificazione al secondo turno tra sette giorni, il messo di ritorno al Palas Caloria.